Dottor Fabio Savini, ASL di Pescara, si parla di farmacotossicologia in un settore in cui Pescara è davvero un punto di riferimento regionale. Sì, Pescara è il centro di riferimento regionale per quanto riguarda la farmacotossicologia. Siamo stati indicati dalla regione Abruzzo ovviamente per quanto riguarda tutte le attività di dosaggio di tutte quelle sostanze, vecchie e nuove sostanze e dei farmaci che in generale possono occorrere nei vari dosaggi. Questo ci ha permesso ovviamente negli anni di sviluppare anche nuove metodiche e attualmente il centro di Pescara, oltre ad effettuare dosaggi di farmaci, di droghe, effettua anche per le forze dell'ordine della provincia di Pescara anche i dosaggi di tutto quello che è il sequestrato. Infatti oggi è l'appuntamento per mettere a sistema queste esperienze per un momento, un convegno, una giornata di studio che mette a sistema tutte quelle che sono esperienze di varie figure professionali. Figure professionali, cioè medici, infermieri, farmacisti, insieme a quelli delle forze dell'ordine, carabinieri, guardie di finanza, polizia di Stato ed altro e tutte quelle attività che avvengono su territorio della provincia di Pescara ma anche dell'intera regione Abruzzo. Consumo di sostanze stupefacenti in costante aumento, soprattutto tra i giovani, un fenomeno, davvero una piaga. È una piaga, tant'è vero che nel mese di marzo il Consiglio dei Ministri ha posto l'attenzione sotto l'aspetto del fentanil che è quella droga che sta flagellando l'America. Oggi si parlerà anche di fentanil. È un'allerta perché bisogna essere preparati. Primo tavolo di incontro c'è stato la settimana scorsa e quella che è venuta fuori e in effetti è un quadro di un'Italia che non è ancora pronta a fronteggiare questo tipo di attività semmai oggi dovesse essere diffusa come lo è in America. Noi siamo preparati perché, grazie a questo riferimento che ha voluto la regione Abruzzo nella unità operativa di farmatossicologia di Pescara, quindi avendo le attrezzature, noi sono già da almeno due anni che riusciamo a effettuare i dosaggi di fentanil in urgenza H24 ma anche su tutti i casi, direttamente su sangue, purtroppo anche per i casi di cronaca e fortunatamente oggi tra i vari sequestri che ci sono arrivati non abbiamo mai avuto il fentanil come sostanza da taglio perché questo diventa pericoloso quando è usata come sostanza da taglio soprattutto con alcune altre sostanze quella che poi viene conosciuta anche in maniera non corretta come droga dello zombie.